siamo qua ok tutte le volte che provo a saltare lui fa un ponte a burro non c'è bene cambiamo quello che faccio qui è porto il braccio dentro e apro il suo comido il bacino cambia vado indietro allargo questo allargo il braccio dietro creo spazio ok a questo punto quello che faccio è vado sopra il ginocchio tocca montare quello che conosciamo tutti ok a questo punto vedete il braccio qua incastrato quello che faccio è la mano va oltre la sua testa qua e il ginocchio avanza ma dalle altre quindi andiamo qua boom boom niente boom apro allargo il bacino arredo con le anche spazio scordo punta terra si montata siamo in gara 1 2 3 4 4 punti ok a questo punto il braccio che sta qui per evitare che io perda questa posizione faccio altro che stringere poi avanzare un po sollevare e allontanare il mio sedere dal suo bacino ok quando sto qui il braccio va oltre la sua testa aggancia il ginocchio avanti va qua c'è mano sotto chiudo questi sono altri quattro punti controllo la mano prendo la sua spalla lui controlla la mano qua non mi fa tirare esatto non mi fa tirare il madaleao chiudo la mano qua sulla spalla spingo con la con la spalla e strangolo lo stesso lui va a difendere lo strangolamento boom ma dalle a e credo di voler trovati da per angoli come si muove per costruire aspetta fabrizio la vedo vediamo vediamo i dettagli grazie qui ok qua lavoro come da terra a cambio base vado indietro quelle anche scorro tocca boom montata a questo punto il braccio che sta qui non si solleva da questa posizione scorrere di solo oltre la sua testa qua aggancia scorre sempre sempre attaccato sempre pressione anche da qua il soffocamento il braccio sta fuori no la realtà è di gioco di con le regala meno no no il braccio sta fuori dovrebbe sta qua su questo punto ginocchio avanti io verso di me vede da totale ho perso di me esco braccio sotto la scella per recuperare chiuso questo punto dice lo da direttamente in madaleao se lui mi controlla questo braccio, mano sulla spalla, stringo a me, avvicino la spalla, premo con la mia spalla verso la sua cola, strangolo, dopo a difendere lo strangolamento qua, esatto, avvicino il bicipite alla mano, la mano non si sposta mai, questa sta qui e qua rimane, si aggancia proprio sulla sua spalla, qualcuno fermi, rimane qua, avvicino il bicipite, ok, chiaro, chiaro, vai